Marco Vandelli dell'Artosiana Forlimpovoli, vittoria 80-71, meritata? Sì, meritata, al primo tempo che abbiamo tenuto lì la partita, al primo tempo che mi è stato a cuore, siamo andati via. Siamo contenti perché tre sconfitte consecutive non ci appagavano del lavoro che facciamo in palestra. Quindi questo mettiamo a frutto i miei metri di Col Santarelli, siamo divertiti, speriamo di continuare. Grazie.